Buongiorno, oggi parleremo di un rettile, della famiglia dei viperidae, la specie Crotalus atrox o crotalo, più comunemente conosciuto col nome di serpente a sonagli. Il reale di questo animale consiste nelle zone rocciose degli Stati Uniti sud-occidentali. La livrea di questo animale è abbastanza inconfondibile, è beige con delle chiazze marroni, una lingua nera biforcuta come la maggior parte dei serpenti e soprattutto il celebre sonaglio, che è di un giallo. E' interessante anche che prima del sonaglio, prima di questa caratteristica che hanno fatto celebre di questo serpente, ha un pezzo di coda che è bianco e nera, a strisce. Questo serpente è uno dei più pericolosi al mondo, uno dei più velenosi in assoluto. Vediamo anche le sue dimensioni. Sono notevoli, arriva fino a 2,20 metri di lunghezza e 7 kg di peso, quindi è abbastanza grande. E le fauci sono dotate di lunghi denti cavi e retratti, in grado di ripiegarsi quando l'animale chiude la bocca e di riposizionarsi in verticale all'apertura. Nel morso a volte accade che i denti, rigirinabili, anche 4 volte l'anno, rimangono conficcati nel corpo della vittima. Ma, mamma mia, quindi è un animale veramente molto pericoloso e aggressivo. Si nutre di uccelli e soprattutto roditori. La riproduzione è ovivipara, vale a dire la madre partorisce direttamente serpentelli vivi che non ricevono nessuna cura parentale e quindi sono subito indivendenti. E' una cosa interessante anche che i piccoletti non hanno subito il sonaglio, gli compare dopo, però hanno subito il veleno, quindi sono già pericolosissimi anche da piccoli. I rapporti con l'uomo? Beh, neanche a dirlo. Ovviamente è pericolosissimo come serpente, è un serpente velenosissimo, quindi bisogna stargli assolutamente alla larga. Anche lui è un super predatore, bisogna stare assolutamente alla larga perché il suo veleno può portare a gravissime conseguenze, per esempio, perché c'è scritto che ha un veleno emotossico, cioè distrugge tessuti, organi e causa coaglopatia, ovvero incapacità di coaglopatia del sangue. Chi subisce morsi da serpenti assonagli può avere cicatrici permanenti, oppure se riceve le cure in ritardo può perdere un'arti, può perdere interi arti o addirittura morire. Quindi è un serpente letale, veramente pericolosissimo, è uno dei più velenosi in assoluto, bisogna stare assolutamente lontani. Infatti ci sono anche cartelli in Nord America, praticamente gialli, che avvisano proprio la presenza di questo animale, con scritto attenzione, pericolo. Ci sono i serpenti assonagli perché sono veramente cattivissimi e ferocissimi, anche da cuccioli, interessanti, quindi bisogna stare attenti, anche i cuccioli, non è che i cuccioli vanno sottovalutati. Sono animali veramente aggressivi. Compare anche in un film western che si chiama proprio Serpentassonagli, quindi ok, il protagonista di questo film western, che sinceramente non l'ho mai visto, però è così. Sì, diciamo che nella cultura di massa si chiama così, ma in realtà questa specie si chiama crotal ufficialmente. Grazie a tutti e continuate a rimanere aggiornati su nuovi video degli animali. Grazie. Grazie.